questo programma è offerto da vuoi diventare un esperto nella preparazione fisica e nello sport il master in preparazione fisica e sportiva controllata dell'università san raffaele roma è ciò che fa per te affidati a uniform impara da professionisti del settore a progettare e gestire programmi di fitness per tutte le età e abilità acquisisci competenze avanzate per lavorare con anziani disabili atleti grazie ad uniform con lezioni online interattive e pratiche in presenza a roma il nostro master ti prepara per una carriera di successo nel mondo dello sport e del benessere approfitta anche dei nostri stage garantiti presso importanti associazioni e strutture sportive i posti sono limitati iscriviti oggi stesso e dai il via alla tua carriera contattaci al numero 329 749 07 29 richiedi info via whatsapp o vieni a trovarci in dopo 26 anni sta collaborando con i magistrati il boss dei casalesi francesco schiavone detto sandocan al carcere duro dal 98 il figlio nicola fu il primo della famiglia a collaborare non solo vomero anche fuori grotta cade a pezzi in tre giorni aperte ben tre boragini in strada collassano le fogne i cittadini allarmati hanno paura per la loro incolumità acquista online box con 50 pacchetti di figurine di calciatori ma all'interno trova un carico di eroina 43 anni di pompeico insegna la merce ai carabinieri un ventenne di solofra è caduto nella trappola della telefonata svuota conto contattato da falsa impiegata postale le ha fornito i numeri della sua carta di credito spariti 500 euro doccia fredda per gli operai di pomigliano d'arco stellantis annuncia nuovi esuberi su 1360 nello stabilimento campano i sindacati chiedono al governo un nuovo incontro contavares la cultura portata di tutti per ogni gusto napoli presa d'assalto dai turisti per pasqua siti archeologici chiese per i riti religiosi e ristoranti per assaporare i piatti della tradizione una targa per vino gassani avvocato penalista e consigliere regionale molto noto a napoli fu ucciso nel suo ufficio a salerno 43 anni fa si rifiutò di far ritrattare un suo assistito collaboratore di giustizia il napoli domani sfida l'atalanta calzona riprova osimena salerno nella mia culpa del patroni erbolino lavellino impegnato nel big match col picerno ben trovata a campania ben trovati ai telespettatori di prima tv la notizia del giorno dopo 26 anni sta collaborando con i magistrati il boss dei casalesi francesco schiavone detto sandocan condannato al carcere duro dal 98 dopo la sentenza di ergastolo nel maxiprocesso spartacus si è pentito il figlio nicola fu il primo della famiglia a collaborare una notizia che è destinata ad avere profonde ripercussioni non gli basterebbe un'intera vita a scontare tutte le sue pene forse anche per questo francesco schiavone detto sandocan capo dei casalesi ha iniziato a raccontare la sua verità collaborando con la giustizia schiavone ha scoperto di essere malato non molto tempo fa forse questo è il vero motivo che lo ha spinto a iniziare il percorso di rabbedimento condannato per diversi omicidi e tanto altro ancora fu arrestato nel 1998 trovato in un bunker di casal di principe in provincia di caserta dai suoi racconti potranno essere chiariti anche altri casi irrisolti oltre che svelare complicità e rapporti con il mondo dell'imprenditoria e della politica che per anni ha sostenuto i gruppi criminali di quella zona del casertano la notizia arriva a pochi giorni dal trentesimo anniversario dell'uccisione di don peppe diana nel 2018 fu il figlio nicola il primo della famiglia a pentirsi e collaborare con la giustizia così come ha fatto il fratello walter nel 2021 una notizia di cui si parlava da qualche giorno in paese ma che avrebbe assunto i crismi dell'ufficialità solo nella giornata di ieri quando le forze dell'ordine si sono recate a casa dei familiari del super boss per proporre il programma di protezione sono naturalmente tantissime le reazioni anche del mondo della politica in queste ore che si susseguono e si parla della grande stagione dell'antimafia che ha portato comunque a questo risultato odierno avremo modo di approfondire anche nelle prossime edizioni del tg ora voltiamo pagina parliamo di napoli che cade a pezzi non c'è soltanto il vomero a fuori grotta ben tre voragini in strada e ancora una volta fogne che collassano prima via consalvo via manzoni e via campegna ora a preoccupare con insistenza c'è anche via barbagallo gli abitanti di fuori grotta popoloso quartiere di napoli che ospita anche lo stadio maradona stanno convivendo oramai da mesi con i problemi legati al sottosuolo che continua a mostrare segni di decadimento tra voragini e dissesti di non poco conto è notizia delle ultime ore che i tecnici di abc la società partecipata del comune di napoli avviando delle verifiche su un dissesto in via barbagallo si sono ritrovati di fronte una realtà ben diversa una voragine lunga una larga porzione del tratto stradale ha fatto scattare la chiusura immediata al traffico e il conseguente avvio dei lavori urgenti di ripristino da inizio 2024 a fuori grotta si sono formate tre voragini i problemi sono quasi principalmente legati alla condotta fognaria vecchia di oltre 50 anni obsoleta e semplicemente non adatta e alla portata del numero di abitanti attività commerciali presenti sul territorio ai nostri giorni dunque resta alta l'allerta nino simeone presidente della commissione infrastrutture non nasconde i suoi timori ha già convocato di recenti assessori e tecnici sulla questione della tenuta del sistema fognario napoletano e ha ottenuto rassicurazioni ma alla luce dei nuovi eventi come questo del via barbagallo che mi sembra davvero consistente dice simeone ritengo che ci siano ulteriori approfondimenti da eseguire solamente al termine dei lavori infatti in questo caso solo di riparazione sarà possibile riaprire al traffico quasi un mese e mezzo fa invece il crollo in via morgane al vomero con le immagini della voragine che hanno fatto letteralmente il giro del web in tutto il mondo il comune aveva detto di essere sicuro di riaprire entro questo fine settimana di pasqua i tempi sono davvero strettissimi nella giornata di mercoledì infatti una condotta dell'acqua si è spaccata per via delle continue sollecitazioni dei mezzi meccanici al lavoro i carabinieri del nucleo radiomobile di napoli sono intervenuti stanotte presso l'ospedale dei colli a minei per un 21enne incensurato che era stato ferito da un'arma da fuoco secondo la prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori il giovane era passeggero di uno scooter guidato da un familiare due sconosciuti in sella ad un altro scooter li avrebbero affiancati pretendendo l'orologio che la vittima portava al polso la reazione avrebbe spinto i malviventi a far fuoco colpendo il 21enne al braccio sinistro al momento la versione è ancora da verificare le indagini sono affidate ai carabinieri di capo di monte il ferito resta ricoverato per ulteriori accertamenti la pallottola è stata estratta e poi sequestrata e per la cronaca ancora andiamo a pompei dove un 43enne che aveva acquistato un box con 50 pacchetti di figurine ha trovato al suo interno anche eroina acquista figurine gli spediscono anche eroina carico di droga sequestrato dai carabinieri il 2023 era iniziato da pochi giorni quando un acquisto inaspettato si trasformò in un fenomeno mediatico un uomo acquistò sul web una scena campestre da aggiungere al presepe nel pacco però arrivò un carico di 10 kg di erba pronta per essere dosata e venduta allo stupore per l'errore evidente si aggiunge una domanda più che illecita chi avrà ricevute due pastori invece del carico di droga e per continuare la tradizione degli acquisti online è finita male ci spostiamo a pompei nel cuore della mattinata un 43enne ha suonato alla porta della stazione dei carabinieri è un professionista incensurato col volto pallido tra le mani una scatola imballata qualche giorno prima raccontato ai carabinieri aveva acquistato su un portale online un box di 50 figurine di calciatori quando si è ritrovato ad aprire il pacco non ha trovato sulle volti dei campioni del calcio con loro anche due bustine incelofanate sigillate contenente polvere bianca quella roba aveva un'aria sospetta così si è lanciato in auto fino ai carabinieri con la speranza di non essere fermato da qualche pattuglia durante il tragitto i militari hanno preso in consegna il pacco e analizzato la sostanza all'interno con un narcotest poteva essere bicarbonato farina invece era eroina pura 150 grammi di stupefacente un carico del valore di diverse migliaia di euro la droga è stata sequestrata ma continuano le indagini per risalire al negoziante sbadato e soprattutto quel pusher che dovrà attendere per riprendere la roba venduta ed ora parliamo della maxi frode scoperta dalla guardia di finanza in irpinia gli sviluppi del caso con milioni di euro che da solo fra polo conciario finivano poi in cina attraverso vorticose movimentazioni bancarie trasferivano ingenti somme di denaro anche verso paesi extra comunitarie in particolare verso la repubblica popolare cinese circa 1,7 milioni sono stati scovati presso banche o fondi esteri in particolare a pechino il tutto emerso al termine dell'indagine la guardia di finanza di avellino che ha portato all'arresto di cinque persone due in carcere tre domiciliari che nel polo conciario di solufra avevano basato la centrale di un articolato sistema di frode fiscale stimato dai finanzieri in oltre 45 milioni di euro ramificato non soltanto in provincia di avellino ma anche in quelle di napoli salerno e fermo i complessi accertamenti investigativi hanno anche accertato che gli indagati hanno eseguito molteplici trasferimenti di capitali tra le società coinvolte nel sistema fraudolento effettuando diversi cambi di amministratore e cessione di quote societarie con lo scopo di allontanare i sospetti e dissimulare i capitali utilizzati eseguite anche 12 perquisizione nei confronti di altrettante persone per le quali è scattato il sequestro preventivo di beni per 3 milioni di euro l'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del tribunale di Avellino su richiesta del comando provinciale delle fiamme gialle i provvedimenti sono stati eseguiti con il supporto dei finanzieri di fermo Castellammare di Stabbia e Cava dei Tirreni province nelle quali si diramavano le attività dell'organizzazione che aveva la sua base nel polo conciario di Sulufra attraverso prestanome società cartiere avevano messo in piedi un articolato sistema per trasferire quasi 2 milioni di euro ricavati da false fatturazioni e con l'escamotage dell'eccessione di crediti Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Francesco Pio Maimone avvenuto a Mergellina indagato il gestore dello chalet dove scoppiò la lite poi sfociata nell'omicidio di un innocente di 18 anni Non ricordo di aver detto questo, riconosco le persone in foto avevano preso una birra ma non hanno partecipato alla lite alcuni erano clienti assidui però io non so chi abbia partecipato al litigio della scarpa Dopo le dichiarazioni ritenute reticenti ora è formalmente indagato Giovanni Nacarlo gestore dello chalet Agostino su Lungomare di Napoli luogo in cui il 20 marzo dello scorso anno è scoppiata la lite per una scarpa poi sfociata nell'omicidio dell'innocente Francesco Pio Maimone diciottenne aspirante pizzaiolo che nulla aveva a che fare con quelle dinamiche principale imputato a processo è Francesco Pio Valda ritenuto esecutore materiale del delitto l'atteggiamento del testimone è stato ritenuto omissivo nonostante i vari avvisi della presidente della prima sezione della Corte d'Assise di Napoli che si è trovata costretta a sospendere l'udienza avvisare Nacarlo del suo status di indagato e a nominargli un legale d'ufficio alla scorsa udienza lo stesso gestore dello chalet non si era presentato in aula e stamattina è stato accompagnato dai carabinieri nonostante fosse sotto scorta il testimone ha provato a ritrattare i riconoscimenti fotografici e le sue dichiarazioni da mercoledì i familiari hanno perso ogni contatto con Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares due ragazzine della scuola media di Alfonsine nel Ravennate le due amiche sono uscite la mattina per andare in classe ma a scuola non sono mai arrivate i genitori hanno lanciato l'allarme Michelle 12 anni e di Fusignano Sofia 13 di Cotignola dal 28 marzo i cellulari secondo le analisi delle celle risultano a Napoli mercoledì mattina entrambe le ragazzine sono state accompagnate dai genitori a scuola ma nessuna delle due è entrata in classe le famiglie si sono rivolte ai carabinieri presentando una denuncia di scomparsa si ipotizza l'allontanamento volontario sembra infatti che le due ragazzine si siano messe in viaggio verso la provincia di Napoli per raggiungere un'amica conosciuta online al momento i militari della zona non le hanno tuttavia ancora rintracciate dopo l'intercettazione dei cellulari delle due ragazze in campagna però i telefoni sono poi risultati entrambi spenti o non raggiungibili le famiglie hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni possa mettersi in contatto con le forze dell'ordine e dopo questa notizia proseguiamo con la cronaca che vede ancora giovani protagonisti in questo caso un ventenne di solofra caduto nella trappola della cosiddetta telefonata svuota conto ventenne di solofra truffato dalla telefonata del falso impiegato di poste italiane proprio nelle scorse settimane abbiamo lanciato attraverso i nostri servizi questo ennesimo raggiro che si compie facendo leva su una falsa situazione di emergenza o presunti problemi di cyber sicurezza che hanno come scopo quello di convincere il destinatario della telefonata a svolgere operazioni di bonifico posto a giro o ricarica a favore di IBAN forniti al telefono oppure facendosi dare il numero delle carte di credito e quanto ha posto in essere una ventisettenne della provincia di Foggia già nota le forze dell'ordine che con una telefonata ha ingannato il giovane irpino truffandolo di 500 euro l'indagine avviata dai carabinieri di solofra ha preso spunto dalla denuncia asporta dal giovane gli accertamenti dei militari dell'arma oltre a confermare che la telefonata non era arrivata da poste italiane hanno permesso di risalire ad un conto corrente riconducibile alla responsabile della truffa che è stata denunciata c'è solo un modo per difendersi da queste truffe quando si ricevono messaggi o telefonate da qualcuno che dice di essere di poste italiane meglio rivolgersi subito alle forze dell'ordine poste italiane o post pay non chiedono mai dati riservati in nessun modo via telefono, email, sms e per nessuno scopo se qualcuno si presenta come operatore di poste italiane e chiede queste informazioni è sicuramente un tentativo di frode ed ora apriamo la pagina del lavoro del lavoro che rischia di non esserci dei nuovi esuberi annunciati per Stellantis e in particolar modo per Pomigliano d'Arco doccia fredda per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco l'azienda ha annunciato infatti 1.087 esuberi a livello nazionale di cui 360 per lo stabilimento di Pomigliano ne hanno dato notizia con una nota congiunta Mauro Cristiani, segretario generale FIOM CGL Napoli e Mario Di Costanzo, responsabile settore automotive dei metalmeccanici della CGL di Napoli se a questi 360 lavoratori di Pomigliano si sommano i 5 di FCA Security i 5 del CRF i 5 di FCA Item i 39 degli enti centrali i 10 dei commerciali di Pomigliano e Napoli gli addetti totali interessati all'esodo incentivato salgono a 424 addetti gli altri lavoratori coinvolti sono quelli degli stabilimenti di Melfi, Termoli, Cento e Verrune per Cristiani e Di Costanzo è chiaro che la silenziosa riduzione dell'organico attraverso il ricorso alle uscite incentivate è la risposta di Stellantis alla mancanza di nuovi modelli i sindacalisti sono così tornati a chiedere in maniera urgente che il governo convochi l'amministratore delegato Carlos Tavares affinché ottenga precise garanzie rispetto alla centralità e alla strategicità degli stabilimenti nostrani perché ad oggi l'unico dato certo in possesso del sindacato e del governo è che il ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali e gli unici investimenti fatti sono quelli per licenziare La FIOM ha pertanto annunciato di aver deciso di non firmare l'accordo in attesa del tavolo governativo previsto per il prossimo 4 aprile subito dopo Pasqua Le anticipazioni del TG Sport con apertura quest'oggi dedicata al Napoli che domani sfiderà l'Atalanta Calzona ritrova Osimèni in attacco poi la Salernitana con il mea culpa del patron Iervolino ho commesso degli errori ha detto il numero uno dei Granata Spazio ancora Lavellino in Lega Pro domani big match col Picerno Pazienza ripropone Cionec in difesa e poco fa in conferenza stampa ha detto avversario ostico dovremo farci trovare pronti Blitz del Giuliano sul campo del Catania 3-2 al Massimino ne parleremo nel corso del TG Sport noi invece torniamo tra pochissimo una breve pausa e ancora con l'informazione regionale Rieccoci in studio come promesso per la seconda parte il clima pasquale in primo piano e l'assalto dei turisti a Napoli ce n'è per tutti i gusti Napoli e l'arte è un connubio perfetto in questi giorni sono migliaia i turisti che stanno apprezzando la mostra dedicata al genio della pittura Caravaggio non solo si può ammirare il dipinto delle sette opere di misericordia al Pio Monte della Misericordia in Via dei Tribunali a Napoli ma anche la presa di Cristo alla Fondazione Banco di Napoli di Via dei Tribunali e la flagellazione di Cristo al Museo Diocesiano Donna Regina fino al 31 maggio infine il suo ultimo dipinto Il Martirio di Sant'Orso l'ha conservato a Palazzo Piacentini in Via Toledo ritornata a Napoli poi in piazza Municipio una nuova e grande versione di Michelangelo Pistoletto della Venere degli Stracci distrutta da un disastroso incendio il 12 luglio scorso e poi ancora la mostra a Palazzo Reale dedicata a Tolkien il grande romanziere britannico dal titolo Tolkien uomo professore autore è finita l'epoca in cui a Pasqua e Pasquetta cittadini italiani e turisti trovavano i musei chiusi e il commento del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano quest'anno come l'anno scorso il Ministero della Cultura apre tutto invito tutti a cogliere questa occasione visitando l'enorme giacimento di arte giorni di Pasqua a Napoli con protagonista anche la cucina e la pasticceria napoletana tipica del periodo dall'immancabile zuppa di cozze del giovedì santo con l'aggiunta dell'olio piccante rosso passando per il casatello aggiungendo la pastire alle uova di cioccolato nei ristoranti del lungomare del centro storico è davvero pienone ed ora parliamo di una bella iniziativa una raccolta di fondi organizzata dalla Polizia Municipale di Napoli che ha permesso l'acquisto di 150 uova pasquali distribuite ai bambini della zona del Vasto un momento di festa ha coinvolto i bambini della zona del Vasto e le loro famiglie all'ingresso della Chiesa del Buon Consiglio l'assessore alla legalità e alla Polizia Municipale Antonio De Jesu e il comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito insieme al presidente della quarta Municipalità Maria Caniglia hanno partecipato alla distribuzione di 150 uova pasquali acquistate grazie ad una raccolta fondi avviata dall'unità operativa San Lorenzo della Polizia Municipale gli attestati di gratitudine e dell'agente ripagano gli agenti dell'impegno del loro lavoro le parole dell'assessore De Jesu Ascoltiamo C'è bisogno di privilegiare un rapporto di prossimità con la gente e questa è una meravigliosa iniziativa che tende ad avvicinare la Polizia Municipale alle esigenze del territorio a più piccoli ed è bello è una bella giornata Soddisfatto il comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito Il quartiere vasto è un quartiere in cui noi spendiamo quotidianamente tante risorse perché tra Via Firenze Piazza Garibaldi Porta Nolana siamo costantemente presenti talvolta ci capita di essere aggrediti nello svolgimento delle nostre attività ma noi rimaniamo fermi sui nostri punti insieme possiamo riaffermare la legalità in questi posti è un momento di solidarietà fa anche comprendere che non siamo quelli che fanno i verbali fanno solo i sequestri ma quelli che sono vicino alla gente e alla nostra collettività Cambiamo argomento una targa per Dino Gassani avvocato penalista e consigliere regionale molto noto a Napoli venne ucciso nel suo ufficio a Salerno 43 anni fa si rifiutò di far ritrattare un suo assistito collaboratore di giustizia L'uomo, il politico l'avvocato penalista che non si piegò alla camorra Dino Gassani è stato ricordato in una cerimonia nel salone di rappresentanza del consiglio regionale della Campania nel 43esimo anniversario dell'omicidio avvenuto la sera del 27 marzo del 1981 nel suo studio di Salerno dove fu ucciso anche il suo segretario Pino Grimaldi consigliere regionale del movimento sociale italiano era un avvocato esperto della pratica forense è considerato uno dei più brillanti penalisti d'Italia non si piegò al diktat della camorra tanto da scrivere su un bigliettino la frase non posso perdere ogni dignità a soli 51 anni fu ucciso ma il suo impegno e il valore sono imperituri nel 2009 l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli conferì la medaglia d'oro al valor civile ai nostri microfoni la presidente della commissione regionale speciale anticamorra e beni confiscati Carmela Rescigno un dovere istituzionale ricordare un uomo consigliere regionale penalista che per non perdere la dignità professionale e per contrastare l'illegalità ha deciso di perdere la propria vita all'evento anche Salvatore Ronghi dirigente campano della Lega che ha tratteggiato un breve ricordo di Gassani il messaggio più bello è stato quella frase che lui ha scritto un minuto prima di morire non sono disposto a perdere la mia dignità cioè lui ha difeso la toga ha difeso la giustizia ha difeso i suoi valori i suoi principi io lo ricordo in qualche comizio quando era consigliere dell'MSI ecco lui esprimeva quei valori fortissimi di destra ma non della destra retorica ma di una resta proprio propositiva in rappresentanza dell'assemblea il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero c'è stata una scia di sangue che l'istituto regionale ha pagato ed è giusto che l'istituto regionale ricordi questi suoi uomini che hanno dato nella società e nell'istituzione un contributo politico al di là dei colori politici Antonio Arzillo presidente del centro nazionale sportivo Fiamma che da anni si impegna sulla promozione della legalità e sulla figura di Gassani ha detto noi ricordiamo la figura di Dino Gassani che è una figura un gigante della lotta alla criminalità 43 anni fa ad oggi lui si immolava rifiutando qualsiasi minaccia da parte dei sicari di Cutolo e pensiamo che giustamente una figura come questa vada a contrastare quello che sono i simboli dell'illegalità Spazio all'arte al centro NADUR di Cicciano lezio magistrali sullo shock dell'arte moderna del professor Pasquale Lettieri critico d'arte e docente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli l'evento è stato promosso e organizzato dal liceo Enrico Medi lo shock dell'arte moderna è stato il tema dell'Alezio Magistralis con il professor Pasquale Lettieri critico d'arte e docente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli che si è svolta al centro NADUR di Cicciano l'Alezio Magistralis promossa e organizzata dal liceo Enrico Medi e coordinata dal professor Giuseppe D'Avanzo dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica Anna Ios e del sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale è entrata nel vivo con l'analisi storico-artistica del professore Lettieri con lo shock dell'arte moderna ha sottolineato il critico d'arte si impone un eclettismo assoluto che può contenere tutto e il contrario di tutto eppure avere una sua coerenza dell'incoerenza avere una sua leggibilità dell'illeggibile e prestarsi ad una interpretazione critica psicologica antropologica formale la convivenza conflittuale della diversità sta creando un nuovo concetto di arte come trasmigrazione di linguaggi il nomadismo senza sosta frutto di una endemia d'avanguardia tanto veloce nel tempo della sua concezione l'esecuzione dissoluzione quanto spezzata infrante e ridotta al particolare alla singolarità durante l'evento che ha riscosso grande partecipazione curato dalla fotografia di Andrea Bove e Laura Vecchione mentre le riprese affidate a filmmaker Felice Iovino l'artista Antonella Pagnotta si è esibita nella performance dal titolo Le donne di Enea sui testi di Mauro Francolini e con l'arte chiudiamo questa edizione del telegiornale grazie in regia Silvana Piccariello grazie a voi per la cortesia e attenzione vi lascio al TG Sport e alla programmazione di Prima TV buona giornata grazie a tutti grazie a tutti